Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo a Sabaudia, in provincia di Latina, per andare a visitare Torre Paola, una magnifica torre alla fine del lungomare di Sabaudia. Prima di cominciare, se non sei ancora iscritto, ti chiedo di iscriverti al canale, di lasciare un like e spero che questo video ti piaccia e ti auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.